A Castelmaggiore c'è l'arte del giardino, sono con il titolare Marco Bugamelli, la storia di questa attività. L'attività nasce nel 1993 come attività di manutenzione parchi e giardini. Si sviluppa poi negli anni anche come azienda in grado di progettare gli stessi e di realizzarli con piante di nostra produzione. Qual è la tipologia del lavoro specifica e a chi ti rivolgi? Mi rivolgo a un pubblico privato, io mi recco nelle proprietà delle persone e propongo il mio lavoro anche con un progetto disegnato, dopodiché lo realizzo in toto, schiavi in mano. Quali sono le location sulle quali poi vai ad allestire i giardini? Noi siamo specializzati soprattutto nell'allestimento di terrazzi e giardini pensili, ma anche di aiuole e di grandi parchi. Non soltanto arte del giardino, ma anche? Ma anche potature di piante ad alto fusto. Non dimentichiamo che siamo nati proprio come manutentori, per cui tengo a specializzare proprio il parco macchine completo per la realizzazione di questi interventi.